Le attuali linee guida mondiali sull'epilessia e soprattutto sul ricorso alla chirurgia parlano di arrivare alla chirurgia nei pazienti farmacoresistenti. Di questo ne abbiamo parlato con la dottoressa Laura Tassi del centro di chirurgia dell'epilessia Claudio Munari di Milano in occasione della 38esima edizione dell'Alice del congresso proprio sull'epilessia. Allora dottoressa, proprio la sua relazione è verte su queste linee guida e sui pazienti farmacoresistenti. Ecco, ci dica meglio come viene definita questa farmacoresistenza e cosa dicono le attuali linee guida? Le attuali linee guida che sono quelle che prendiamo in presso dall'ILEC e dall'International League Against Epilepsy ci propongono una definizione di farmacoresistenza in base alla possibilità di trattare il paziente che se viene a mancare dopo i due farmaci che vengono utilizzati in modo, ovviamente dipendendo dalla sindrome epilettica da cui il paziente è affetto, se questi due farmaci falliscono il paziente a questo punto può essere definito farmacoresistente. In teoria c'è anche un timing nel senso che oltre i due anni non si dovrebbe andare per provare questa farmacoresistenza, dopodiché se il paziente è affetto da un'epilessia focale dovrebbe essere posta l'indicazione all'intervento chirurgico, quando ovviamente questo è possibile. Il vostro centro è il più grande in Italia che si occupa della chirurgia dell'epilessia. Cosa fate di preciso? Nel nostro centro che nasce nel 1993 e che viene dedicato dopo la scomparsa a Claudio Munari, ci occupiamo esclusivamente di chirurgia dell'epilessia, quindi non facciamo altro, vediamo solo pazienti per definizione, come abbiamo visto, farmacoresistenti, sia bambini, quindi l'età pediatrica da 0 ai 18 anni, sia adulti, anche se l'età poi viene definita come limite più o meno fino ai 60 anni. Facciamo le indagini diagnostiche necessarie, quindi le registrazioni di superficie, le registrazioni con elettrodi intracerebrali e poi eventualmente, quando possibile, l'intervento chirurgico. Non ho citato il vostro centro a caso durante l'intervista, proprio perché parlando di linee guida avete una proposta per la nuova revisione. Di cosa si tratta? La nostra proposta è quella di anticipare il più possibile l'intervento chirurgico e addirittura di proporlo in sede di prima diagnosi, quindi nei pazienti in cui si fa una definizione di un'epilessia sintomatica, quindi legata alla presenza di una lesione anatomica, proporre l'intervento addirittura prima, se possibile, di instaurare la terapia antiepilettica. Questo perché i dati dimostrano che prima si fa l'intervento, minore il tempo di malattia, quindi ovviamente minore è l'ingombro sociale che questa malattia, per definizione cronica, porta al paziente, minore il tempo passato con farmaci antiepilettici, ma soprattutto la probabilità di guarigione aumenta enormemente e questo è importantissimo, soprattutto in età pediatrica. Ci sono dei fattori prognostici che possono aiutarvi nel distinguere il paziente farmacoresistente da sottoporre come magari a chirurgia? Sono anni che ci dibattiamo in questo tentativo di capire, quando vediamo il paziente la prima volta, se effettivamente possiamo dare una prognosi, quindi possiamo dire al paziente se in futuro la terapia sarà in grado di coprirlo o meno. In realtà ci sono migliaia, penso, di lavori scientifici che cercano di trarre delle conclusioni, forse l'unica variabile che effettivamente ci porta in anticipo a pensare che il paziente potrà essere farmacoresistente è la presenza di una lesione cerebrale. Per quanto riguarda i bambini e gli adulti, ci sono differenze nei due casi per quanto riguarda l'intervento e quindi l'arrivo dell'intervento? Assolutamente sì, l'epilessia dei bambini tende ad essere catastrofica, quindi viene affrontata chirurgicamente decisamente prima rispetto agli adulti e i bambini vanno trattati in modo assolutamente diverso perché il metabolismo, il tipo di crisi, il tipo di malformazioni è completamente diverso da quello dell'adulto. Il nostro tentativo è quello di spostare in tutti i casi l'intervento in età pediatrica, quindi quello è di evitare quello che ancora oggi porta i pazienti ad essere operati dopo in media 15 anni di malattia, che è devastante dal punto di vista sociale, economico, familiare e personale per il paziente. Quindi a questo punto mi sorge la domanda, come farete adesso per la vostra proposta andare avanti a portarla avanti? Abbiamo diversi modi di lavorare, il primo è di cominciare dall'apice, quindi di chiedere ovviamente una revisione all'International League Against Epilepsy sui criteri per proporre un intervento chirurgico, ma secondo noi è molto più importante cominciare da giù, quindi spiegare ai nostri colleghi, che sono quelli che poi inviano i pazienti alla chirurgia, come possiamo rendere più precoce questo trattamento, come possiamo aumentare le possibilità di guarigione dei pazienti, ridare loro una vita normale che prevede l'assenza di crisi e l'assenza di terapia, che è importantissima soprattutto in età pediatrica, soprattutto quel che riguarda i deficit cognitivi, decidendo di inviare il paziente ancora prima di aver cominciato una terapia antiepilettica, comunque per una valutazione chirurgica. Poi sarà il paziente e la famiglia ovviamente a decidere la strada da intraprendere, ma il cammino che desideriamo fare insieme ai nostri colleghi è proprio questo, anche perché i risultati effettivamente ci confermano che sarebbe il cammino migliore per questo tipo di pazienti.